Il reparto di ortopedia dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissette è quinto in tutta Italia e primo in Sicilia tra le unità operative che hanno seguito più di 150 interventi in un anno entro 48 ore su pazienti over 65 con frattura del femore. L'unità operativa è diretta da Massimo Siracusa, un risultato che dice il primario non sarebbe stato possibile realizzare senza il lavoro di squadra e i colleghi che operano con me in reparto, i medici Giovanni Alongi, Anna Arancio, Antonio Bugea e Michele Palumbo. La classifica è stata pubblicata dalla OTODI, Ortopedici Traumatologici Ospedalieri d'Italia, preseduta dal professore Vincenzo Cagliaffa. Nella classifica rientrano i soli ospedali che hanno eseguito oltre 150 interventi su fratture di femore in un anno e tra questi sono state ulteriormente valutate quelle unità operative che li hanno realizzati in 48 ore, per quel lasso di tempo massimo stabilito dalla linea guida che garantisce migliori postumi in termini di funzionalità motori e sopravvivenza. Il reparto di Ortopedia del Sant'Elia ha raggiunto il 93%. Parliamo di pazienti complessi sul piano della comorbilità, spiega Siracusa, e quindi il risultato non è incommiabile soltanto sul piano dei numeri, ma anche sulla capacità di gestire il paziente dal punto di vista medico e assistenziale con risultati eccellenti. Il numero di ricoveri per questa patologia e ragione dell'avanzare dell'età legata ai progressi della medicina è aumentato costantemente. All'interno del reparto ci occupiamo di chirurgia traumatologica, compresi i traumi di bacino, chirurgia protesica di spalla, ginocchio e anca, chirurgia artroscopica e chirurgia mini-invasiva. Ma c'è un altro obiettivo raggiunto da parte del reparto guidato da Siracusa. Nella chirurgia protesica otteniamo, dice, ottimi risultati in termini di recupero funzionale e di minimizzazione delle complicanze, quali ad esempio infezioni, patologie tromboemboliche e fallimenti di impianto.